signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questa settimana sempre per parlare di giochi non tradizionali abbiamo con noi arco che vabbè intanto presentati tu perché sei qui allora ciao a tutti mi chiamo matteo san filippo arco è un soprannome con cui all'epoca anni 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 fa mi avevo scritto su facebook ed è rimasto così perciò tanti mi conoscono come arco e sono un autore di giochi chiamiamoli appunto story game o indie a seconda della nomenclatura che si vuole usare amatoriale non sono un professionista non vivo di questo però lo faccio con tanta tanta passione ecco da un 5 6 anni più o meno scrivo giochi ho iniziato con il mio primo progetto che primire che è un gioco già molto più tradizionale in realtà un neo tradizionale un po spinto poco neo cioè poco tradizionale è molto nero e che parla della della nascita di roma fondamentalmente è un gioco ambientato nella roma monartica una roma molto molto barba molto diversa da quello che è il solito e e poi piano piano ma mi è venuto naturale mi sono un po staccato da appunto dal da quello che erano i canoni più tradizionali più classici per esplorare un ambito un po più indipendente moderno chiamiamolo come vogliamo con altri due giochi che ho pubblicato per precisazione primire purtroppo non è mai stato pubblicato ci sono stati dei problemi e non siamo riusciti nella pubblicazione ma poi appunto con l'ultimo bianco che è un gioco minimale che sta in sei pagine e funziona attraverso un mazzo di carte francesi dove i personaggi sono persone reali in un mondo assolutamente come il nostro è ambientato proprio nel nostro mondo sono tutti quanti alla ricerca del dell'ultimo orso polare del pianeta per i propri scopi per i propri motivi quelli poi si scoprono in gioco una cosa caratteristica parte il mazzo di carte che già diciamo differisce un po da quello che è il mondo tradizionale anche il fatto che in questo gioco in realtà ogni giocatore ogni personaggio va per la sua strada non è detto neanche che si incontrino perciò non esiste il concetto del party unito tutti assieme alla ricerca di qualcosa e e poi l'ultimo gioco è che ho fatto che ho pubblicato due anni fa è il mulino il gigante ed è un gioco molto fiabesco in cui anche lì è molto lontano dal mondo tradizionale assomiglia quasi più a un gioco da tavolo e questo è il mio questo è il mio background autoriale momentaneamente poi ho a tanti altri progetti in corso e mi piacerebbe buttarne fuori un sacco però il tempo è quello che è allora già hai buttato un sacco di carne al fuoco perché hai ha introdotto qualcosa che per quelli che ci guardano che sono abituati esclusivamente al gioco in ruolo tradizionale al neo trad sembrano quasi delle eresie cioè il party non sta assieme già anche solo non si usano i dadi si usano le carte allora domanda che sembra brutta ma perché i giochi i giochi narrativi sono strani tra virgolette in mancanza di un termine migliore allora guarda io innanzitutto opterei già per mettere in dubbio la nomenclatura di giochi indie o giochi story game in realtà secondo me tutti i giochi di ruolo sono degli story game perché comunque tutti i giochi di ruolo anche quelli più tradizionali bene o male portano fuori una storia perciò già già qui c'è tanto da dire in realtà però per facilità per comodità e questi termini vengono usati e va bene così mettiamo così il termine story game è stato coniato in realtà è colpa nostra dei trad perché una componente grossa del trad è il letteralmente il combattimento tattico c'è una griglia delle pedine certo certo un gioco in cui non si picchia è un gioco in solo la storia è è la stessa poi delle definizioni sono già indie per esempio sarebbe sbagliato perché il gioco indie per antonomasia è la prima edizione di pathfinder si infatti però è la 3.5 è un gioco ultra tradizionale librone di 300 pagine alcuni vent'anni fa venivano definiti i giochi forgiti perché the forge era il forum di riferimento però attualmente definirli forgiti sarebbe come definire non so la quinta edizione di dnd un gioco osr no non c'entrano più e si è andati avanti quindi in realtà è anche difficile più che altro una cosa che se per le altre culture si riesce ad avere un ok se io ho giocato a dungeons and dragon e vado a giocare a the call of tulu comunque ritroverò un sacco di elementi in comuni poi i dadi hanno una forma diversa la regola è scritta una maniera diversa i giochi narrativi manteniamo sto termine no io posso giocare a due giochi e essere due cose totalmente diverse tra i loro sì sì per rispondere alle tue domande perché sennò va a finire che si no allora beh secondo me la base di tutti i giochi narrativi story game giochi moderni che è una cosa che io utilizzo spesso per definirle sta alla base il fatto che appunto tutto quello che nel tradizionale era un pilastro un cardine un luogo sicuro viene messo in discussione no perciò la presenza del master l'ultimo bianco non ha un non ha un master è un gioco masterless perciò tutti i giocatori hanno autorità su tutto fondamentalmente tranne su alcune cose e la presenza dei dadi il fatto che appunto i giocatori creino una sorta di parti di gruppo unito che va all'avventura tutte queste cose nei giochi indipendenti solitamente possono essere messi in discussione e alla base c'è proprio questa voglia di cambiare un po le carte in tavola banalmente per l'utilizzo delle carte secondo me che siano carte che siano dadi che siano pezzi del domino che siano bastoncini che siano post it o anche che non ci sia assolutamente nulla ma sia semplicemente una regola che veicola le autorità in determinati momenti o attraverso determinate frasi rituali banalmente il punto sta nel fatto che è solo un mezzo cioè è un mezzo per dare la possibilità al gioco di risolvere delle situazioni in alcuni casi situazioni legate all'alea in alcuni casi situazioni in realtà in cui l'alea non c'entra assolutamente nulla banalmente scusa se uso riferimenti ai miei giochi ma lo dico solo perché non conosco bene l'ultimo progetto su cui sto lavorando che è un gioco anche questo abbastanza piccolo di 16 pagine che si chiama finocchio che parla di un orco vegano che non si ritrova nella sua specie perché non è violento non è feroce non ha alla base l'alimentazione della carne e perciò è completamente un fuori contesto in questo gioco lui cioè il gioco non prevede assolutamente l'alea non è un gioco che ti porta ad avere situazioni incerte che si risolvono attraverso un tiro di dado appunto il pescaggio di una carta ma attraverso delle autorità distribuite nel gioco si può mettere in dubbio quello che viene detto da qualcun altro in determinati modi e in determinati momenti perciò tutto dipende che sistema di risoluzione vuoi dare al gioco questo è il rispondere come mai le carte non il dado perché alla fine è solo uno strumento insomma sì ecco questa è una cosa importante che forse la domanda bisogna farla noi qui sul canale appunto trattando i trad abbiamo il master come figura centrale i giochi alternativi fondamentalmente si basano sulla decostruzione della figura del master in realtà anche lì tu hai parlato di masterless questa è una diatriba abbastanza vecchia ma tecnicamente dovrebbe essere masterful masterful masterless sì 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 perché ecco qual è la ragione che spinge a creare un gioco comunque a giocare un gioco che abbia un'autorità narrativa diversa allora adesso il master nel trad fa ricopra la figura di quello che è il regista o direttore d'orchestra cioè coordina la storia perché togliere questa figura allora io per per quella che è la mia esperienza e anche l'esperienza di tante persone con cui ho parlato dell'argomento con cui mi sono confrontato all'inizio anch'io provengo da dungeons and dragons come credo il 99 per cento del del mondo ludico del gdr perciò a un certo punto anch'io ho scoperto questa filone di giochi strani e all'inizio non capivo non addirittura mi ricordo benissimo che in una chattata ho fatto una grande brutta figura esclamando ma non è possibile che non ci sia il master una sorta di master ci deve essere eppure poi col tempo provando questi giochi leggendo e parlando con le persone che ne capivano molto più di me ho capito nel senso che di base tutto sta al fatto che ci sono dei giocatori io ero uno tra questi in cui sentono si sente il bisogno di avere autorità in quello che viene detto dal master solitamente perché perché probabilmente sia molta fantasia sia voglia di 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 esprimersi di esprimere il proprio parere il proprio la propria visione no e nei giochi più tradizionali il master tante volte per regolamento dovrebbe addirittura descrivere tutto quello che accade anche quello che il tuo personaggio fa nel momento in cui i dadi vengono vengono tirati nel senso il risultato del tiro del dado in realtà è in mano al master a livello descrittivo no e questa cosa secondo me parte tutto da qui questa cosa qui sta un po stretta perché tante volte magari tu giochi con un master che è molto molto scevo di parole insomma magari vorresti un master più più descrittivo che o magari l'idea che tu ti eri fatto della scena era completamente differente a quella che poi il master tira fuori perciò da secondo me da questa sorta di insoddisfazione nasce un po l'esigenza del dire cacchio voglio essere io che dico cosa succede e come succede e questo forse è la base forse poi c'è da dire che di solito i giochi masterless includono anche una grande porzione di world building e anche di legame tra i personaggi una cosa che viene molto approfondita nei giochi moderni solitamente è la parte appunto del legame che i personaggi hanno tra loro o che in generale i personaggi hanno con il mondo perciò da un certo punto di vista viene molto approfondita la parte interiore la parte chiamiamola di emozioni di aspettative nei giochi più tradizionali può essere definito background solo che nei giochi più tradizionali veniva solitamente cioè creato precedentemente o dopo l'inizio della sessione piano piano un passo alla volta nei giochi più moderni solitamente invece viene creato man mano che si gioca infatti tanti giochi moderni si dice che il gioco moderno il gioco indio narrativista chiamalo come vuoi sia gioco emergente perché la preparazione è quasi nulla addirittura in alcuni giochi proprio non esiste il prepararsi prima un'avventura o un canovaccio d'avventura e perciò credo che la questione del volere un gioco senza il master sia necessario nel momento in cui vuoi che tutti al tavolo abbiano la possibilità la soddisfazione di dare un contributo davvero sostanziale a quello che è la storia che poi appunto viene fuori perché purtroppo adesso poi tu mi mi dirai se secondo te è vero o no per le esperienze che ho avuto io nei giochi più tradizionali molto spesso trovi anche il master che si crea un'avventura estremamente dettagliata su cui probabilmente ha perso tantissimo tempo e probabilmente anche grandi aspettative che venga seguita e apprezzata che va a finire che è qualsiasi cosa tu faccia qualsiasi scelta tu prenda come giocatore il tuo personaggio andrà grosso modo in conto sempre più o meno a quello che il master aveva previsto e questa è una sensazione bruttissima perché ti rendi conto che in realtà la libertà del gioco di ruolo che tanto viene tra virgolette venduta poi forse non è così perché in realtà il master può tranquillamente decidere che tu vada a destra che tu vada a sinistra che tu scelga di fare questo quello in realtà la situazione che incontrerai più o meno sarà quella perché quella che lui ha previsto quella che lui ha in mente eccetera eccetera questa è un'altra cosa importante da dire mettiamola così allora qua andiamo sulla semantica sì questa situazione tecnicamente è possibile in un vecchio video magari un link qua sopra da qualche parte ne abbiamo parlato viene chiamato il binario spezzato perché il gioco tradizionale si basa sul railroad la serie degli eventi previsti certo quando questa serie salta appunto il binario si spezza c'è da dire che se questa cosa succede succede in maniera evidente normalmente un problema di master a quel punto come dicevo la questione semantica nel trad il master si chiama master in quanto lui ha dovrebbe avere in teoria la maestria del gioco se il master deve fondamentalmente negare le scelte dei tuoi giocatori perché se no lui non riesce a reggere la partita e allora non è il master è la stessa cosa per cui se io dicessi che sono un maestro di arti marziali e poi tutti mi menano e allora non sei il maestro di arti marziali sei uno che fa arti marziali però mettiamola così sì diciamo che se nel trad questo problema possibile in realtà un approccio diverso cioè viene risolto con in realtà un enorme enfasi sulla preparazione del master al master trad viene detto tu devi essere bravo tu devi studiare tu devi prepararti diciamo che il trad ha anche un modo molto più draconico per gestire la mancanza di possibile autorità nel gioco cioè tu dici a ma a volte io vorrei poter contribuire di più la risposta trad è ok master la maggior parte dell'autorità e del master ma i master sono abbastanza darwiniani tra di loro se il master non regge verrà sostituito da un altro master poi in realtà anche lì che più che master ha più nell'ottica che il gruppo preferisce però il trad essendo molto tribale come organizzazione potrebbe voler dire che lo stesso master che in un gruppo viene considerato un genio in un altro gruppo viene considerato un povero fallito certo e viceversa certo certo assolutamente ok però a questo punto una domanda che per adesso ho fatto a tutti che può sembrare strana ma una persona che non abbia mai giocato a un gioco moderno proprio banalmente tu ti ritrovi con il tuo gruppo di gioco non diciamo i tuoi giocatori appunto perché non c'è master ma te ritrovi questi amici cosa si fa a un tavolo moderno beh a me è capitato spesso di avere giocatori a convention o a partite online tirate su per x motivo è capitato spesso di avere giocatori che vengono dal tradizionale che vengono fondamentalmente solo da dnd o simili e che volevano scoprire esplorare allora la base c'è da dire che ci deve essere sempre voglia di provare qualcosa di diverso se non c'è questa cosa c'è da un tavolo e mi è capitato purtroppo a un gioco che non conosci completamente differente da quello che è la tua aspettativa si creano situazioni ma vengono fuori subito si creano situazioni difficili perché mi è capitato una volta che un giocatore sbottasse dicendo ma questo non è un gioco di ruolo è un gioco da tavolo io volevo giocare di ruolo e lì bisogna un attimino poi capire parlare aver pazienza confrontarsi e magari capire che da un lato magari c'è stata una cattiva comunicazione da parte di chi presentava il gioco dall'altro lato magari la persona non si è minimamente informata ed ha per scontato un sacco di cose che scontate non sono però se hai la voglia di provare davvero qualcosa di nuovo e di mettere in discussione tutto quello che sai o pensi di sapere sul gioco di ruolo e allora è una gran bella scoperta secondo me perché in generale provare qualcosa di nuovo per come sono fatto io è sempre bello e non hanno avuto grosse difficoltà in realtà perché in realtà una delle cose che solitamente fanno parte dei giochi più moderni rispetto ai tradizionali è proprio la curva d'apprendimento insomma i giochi moderni sono mediamente molto più snelli a livello di contenuti anche di numero di pagine a livello di regole sono più sono meno sono più meno matematiche più semplici hai bisogno di meno memoria no devi solamente fare un piccolo sforzo nel entrare nell'ottica giusta no se banalmente nel tradizionale puoi tranquillamente limitarti a dire uso questa abilità in questa determinata situazione oppure attacco nel nei giochi più moderni probabilmente invece dovrai essere più descrittivo dovrai parlare dovrai descrivere esprimerti magari dire il perché il per come il tuo personaggio fa queste cose perché tanti giochi moderni hanno proprio la meccanica del fatto che se tu non ti esprimi se tu non dichiari bene quello che vuoi fare come lo vuoi fare o perché lo vuoi fare la meccanica non funziona proprio no e allora non c'è nulla di difficile in questo è solamente una questione di entrare un po nell'ottica giusta infatti una cosa che per esempio adesso mi sposto un attimo dalla tua domanda in realtà io consiglio i giochi più moderni molto più facili per un una persona completamente asciutto di gioco di ruolo rispetto che i vecchi tradizionaloni dove hai tanta matematica hai delle schede che solitamente sono come il kud hai mille mille abilità mille co più meno per diviso due uguale a bere bomba e in le schede dei giochi moderni sono estremamente minimali hai poche cose da memorizzare e e ripeto anche se io che non ho mai giocato di ruolo voglio approcciarmi e dire ma sì dai leggo il manuale vedo che solito sono manuali veramente snelli rispetto a un pathfinder un dd a uno sguardo nel buio a tutti i giochi tradizionali più classici warhammer vampiri insomma abbiamo da poco parlato di gulps sul canale quindi ok una cosa però restando nell'ambito delle regole perché questo è un fraintendimento relativamente comune i giochi tradizionali comunque gli altri giochi hanno tante regole molto spesso difficili eccetera ma in realtà sono i giochi narrativi quelli a essere più fiscali sull'applicazione delle regole assolutamente sì assolutamente sì qui già che ci sono colgo l'occasione per tirare fuori una cosa che avevo pensato poco fa e volevo dirla che secondo me è interessante allora adesso io non sono un grandissimo in realtà un grandissimo esperto di storia del gioco di ruolo e in generale non ho una grandissima cultura ludica però da quello che so poi magari tu mi mi correggerai perché sicuramente ne hai più di me soprattutto nel tradizionale i giochi tradizionali vivono quasi tutti sulla regola d'oro non la famosa regola per cui tutte le regole del gioco possono essere assolutamente messi in discussione nel momento in cui il party si diverte o si vede che la situazione conviene sì intanto che tutti sono d'accordo le regole possono venire ignorate esatto ecco questa cosa qui nei giochi più moderni è assolutamente inaccettabile ma non ha proprio senso di esistere perché di base perché i giochi moderni che vengono spesso anche definiti giochi focalizzati prevedono e qui mi collego a quello che volevo dire prima che in realtà i giochi moderni molto spesso sono molto sul binario no come 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 dicevi tu prima dei dei tradizionali perché in realtà i giochi moderni tipo un ti portano a vivere un'esperienza specifica con dei toni specifici nel mulino il gigante banalmente appunto tiro fuori un altro uno dei miei giochi tu sei un personaggio perso all'interno di un bosco e devi aiutare il gigante a ritrovare i suoi ricordi che ha smarrito questa cosa è un vincolo del gioco cioè tu non puoi dirmi ok torno a casa ciao ne e me ne vado per la mia strada il gioco lì in quel momento tu lo rompi perché il gioco proprio prevede che ci sia in questo caso un gruppo unito che va alla ricerca dei ricordi del gigante quello è il gioco non è un sandbox non è un gioco in cui tu hai un mondo open da esplorare e farci quello che vuoi e se tu decidi che vuoi rimanere lì nel bosco costruiti la casetta e andare a pesca e poi trovare la taverna e magari andare a mettere le caccole nell'orecchio al gigante quando dorme per carità lo puoi fare in senso in senso che lo puoi dichiarare però in quel momento stai rovinando il gioco agli altri stai rompendo il gioco e stai giocando a qualcos'altro capito e perciò anche i giochi moderni sono molto incanalati l'importante è saperlo saperlo subito ma questo si sa subito nel senso che fa proprio parte del gioco non è come dicevamo prima un escamotage del master che decide di guidarti bene o male e qui poi dico una cosa su quello che hai detto tu prima è vero che un bravo master sa trattare il gruppo ma c'è da dire per esperienza personale ho avuto dei bravissimi master ma un giocatore che gioca da un po di tempo lo becca sempre il master anche il master più bravo del mondo che in realtà sta girando la frittata con con classe ma la sta girando no ah sì e c'è poco da fare lo capisci cioè non saprei neanche come definire il perché lo capisci ma lo capisci mettila così la base che tutto quello che il master dato che stiamo giocando tutto quello che succede è finto quindi mettiamola così negli altri giochi quando è solamente il trad non è che i giocatori non possano rompere il gioco però diciamo che sì il quello che il singolo personaggio può fare a un ventaglio molto più ampio certo ma esiste comunque una sorta di gentleman's agreement sul ok però siamo stiamo giocando a dnd questo ad esempio mi capitò di fare di un manuale che per l'ottanta per cento è regole di combattimento 20 per cento è gestione dell'inventario e poi a tre regole che gestiscono il parlare è ovvio che in quel gioco qualunque cosa tu faccia la cosa deve essere andiamo a menare guarda tu hai detto una cosa interessantissima scusa se ti infatti a me fa morire da ridere e mi fa anche un po' arrabbiare quando sento quei gruppi di gioco di dnd o di giochi simili che magari scrivono un post su facebook o magari gli senti parlare alle convention che sono contentissimi si esaltano e quasi godono sul fatto che hanno fatto la mega sessione dove non si è tirato un dado ah che bello non abbiamo tirato neanche un dado ma allora io di questo punto cambiate gioco non state giocando a quello che che vi siete profissati non so come dire ci sono tantissimi giochi che prevedono il fatto che tu non ti ridadi e stai lì a chiamiamola raccontartela o magari ad approfondire degli aspetti interessantissimi che come dicevi giustamente tu dnd non ti dà delle regole non ti non ti dà nulla per approfondire e ci sono dei giochi che invece si basano proprio su magari appunto la relazione il conflitto sociale la politica il qualunque cosa insomma ecco sì la mettiamola così una differenza potremmo dire che se ovviamente un gioco un gioco non narrativo cercando di farti fare più cose possibile normalmente comunque si deve focalizzare su una cosa e le altre sono gestite peggio un gioco narrativo tu puoi fare una sola singola cosa però le regole per quella cosa dovrebbero almeno in teoria essere perfette per farti ottenere esattamente quel risultato teoricamente sì e poi vabbè se sempre qualità del gioco ma qua è un discorso una cosa una cosa banalmente che viene viene fuori viene fuori molto spesso ai tavoli dei giochi chiamiamoli più moderni più narrativi se non sei un giocatore che ha molta fantasia e molta voglia di parlare di raccontare il gioco non dico che si rompe ma si incrina sicuramente un po tutto perché i tempi morti in cui uno sta zitto e tra virgolette si siede sulla narrazione degli altri e se la gode per carità non c'è nulla di male ci sono quei giocatori che amano sentire una storia e ascoltare e dire il minimo il minimo possibile però oggettivamente non sono probabilmente giochi adatti a quel tipo di giocatore ci sta che ognuno abbia delle preferenze qui non esistono buoni cattivi giusto sbagliato io non sono più che preferenze però tornando al discorso del master full probabilmente più un discorso di competenze anche in un gioco tradizionale il master deve essere bravo sì sì i giocatori teoricamente no ci si aspetta che sappiano le regole ma anche se uno sta semplicemente seduto zitto e muove le miniature tecnicamente non sta rovinando l'esperienza agli altri magari la rende solo un po più noiosa certo in un gioco narrativo il giocatore passivo semplicemente si alza e se ne va non è quello il tuo tavolo dice viene bilanciato io ogni giocatore ha molta più possibilità di influenzare la storia ma questo lo paga nel fatto che ok però a quel punto tutti i giocatori devono essere bravi tra virgolette non puoi essere lì non puoi fare il turista in un tavolo narrativo sì è molto molto più difficile diciamola così magari puoi farlo in una one shot però chiaramente se decidi di mettere su delle delle campagne che di solito le campagne dei giochi narrativi o moderni sono relativamente molto più brevi rispetto alle campagne dei giochi più tradizionali e lì ha chiaramente un giocatore che fatica ad esprimersi fatica a tirar fuori quello che il gioco prevede è un un po un casino insomma chiaramente probabilmente come dici tu finirà che lui cambierà cambierà gioco insomma ma ci sta non c'è nulla di male rispetto no no anche anche perché evidentemente non è il tipo di giochi che fa per lui quindi la cosa per lui cambiare guarda approfitto di questa finestra per dire una cosa secondo me importantissima cioè che è un messaggio di pace nel senso che tanti tanti tante persone che sviluppano giochi narrativi o moderni chiamali come vuoi ho tante persone che semplicemente ci giocano eccetera eccetera io ho notato che hanno un po il vizio il vizio sì per me è un vizio sbagliato di denigrare un po quelli che sono i giochi più tradizionali legati proprio alla figura del master legato al fatto che magari ci sia un certo tipo di interpretazione del gioco secondo me non c'è nulla di sbagliato cioè se a qualcuno piace il master che ha tanta autorità e gli vuole dare fiducia e c'è un patto sociale alla base corretto che viene rispettato per cui c'è un master che comunque segue le regole che comunque fa quello che deve lo fa bene non c'è assolutamente nulla di male nei master i giochi masterless non sono assolutamente più evoluti dei giochi con il master sono semplicemente giochi differenti che sono venuti dopo sono un'evoluzione sì perché sono sono arrivati dai giochi con il master e si sono evoluti in quella direzione ma non sono più evoluti in termini di qualità è semplicemente un'esperienza differente e lo stesso vale per il famoso master intrattenitore o il master che che fa le vocine non c'è nulla di male cioè il fatto che alla base ci siano dei giochi dove c'è prevista la figura di un master che recita le parti dei png che crea effetti che mette musiche che fa voci che va benissimo e anzi io per primo se mi gioco se mi siedo un tavolo di un tradizionale o un master molto bravo nel nel fare come alcuni dicono l'intrattenitore io mi diverto non c'è nulla di male quello che a me annoia dei tradizionali sono altre cose sono legate alle regole non di sicuro la figura del master che fa il suo la sua parte di gioco perciò è una cosa che c'è da entrambi gli schieramenti perché anche nel trad c'è il l'idea che ha i giocatori giochi narrativi hanno poche regole quindi non sanno giocare non vogliono le regole la comunità osr molto spesso è chiusa verso chiunque altro non giochi questo però non è una questione mettiamola così questo non è un problema dei giochi di ruolo il problema è che i ruoli sono giocate alle persone e le persone a volte sono veramente orribili però sì però sai che cosa io penso sempre secondo me questo è un grandissimo caldine e secondo me lo è anche in generale forse no stavo sbagliando non lo è dei giochi moderni secondo me dovrebbe essere un cardine del gioco del gioco di ruolo tutto cioè il fatto che il gioco di ruolo è un'esperienza sociale un'esperienza in cui delle persone si mettono allo stesso tavolo o si connettono tutte sullo stesso sulla stessa piattaforma online e giocano assieme vivono un'esperienza assieme più che giocano perché alcuni giochi non sono assolutamente divertenti e non sono assolutamente scapisti possono essere anche esperienze molto dure decidono di vivere un'esperienza assieme ed è un'esperienza sociale spesso accade anche tra persone che non non si conoscono tra di loro perciò il potenziale sociale del gioco di ruolo è enorme e questo prevede che alla base ci dovrebbe essere una sorta di persona che ha voglia di scoprire la voglia di socializzare la voglia di stare assieme perché secondo me se non c'è questo la base giocare di ruolo forse non è la cosa migliore forse è meglio giocare un videogioco in single player o è meglio giocare un gioco da tavolo dove giochi contro gli altri piuttosto che con gli altri eccetera eccetera questa è una cosa secondo me che va va assolutamente detta e secondo me è basilare il gioco di ruolo un'altra cosa importante secondo me il gioco di ruolo è il materiale cioè il gioco di ruolo deve avere poco materiale perché è brutto da dire però è un gioco povero un gioco pop è un gioco popolare cioè tu ti siedi hai un libro foglio di carta matite penne dei dadi delle carte ma tutta cosa che puoi cose che puoi bene o male reperire in casa magari quasi tutti noi abbiamo un mazzo di carte a casa o dei dadi di qualche tipo o qualunque cosa ecco quei giochi che vanno a tirar fuori un sacco di materiali specifici eccetera eccetera non dico che non siano giochi di ruolo però già stiamo andando verso il gioco da tavolo che per me non è un male perché secondo me il gioco di ruolo dovrebbe imparare tante cose dal gioco da tavolo però una delle caratteristiche che secondo me il GDR dovrebbe avere è quella che sia la portata di tutti anche come materiali ecco scusami se mi sono no no vabbè diciamo con questa con questa riflessione finale che è importante chiudiamo perché stiamo sporando i tempi quindi scusami sono chiacchieroni dovremmo poi organizzarne un'altra comunque ti ringrazio per essere venuto noi ci rivediamo la prossima settimana grazie 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 grazie